amici dell'opinione buongiorno oggi parleremo della costituzione e l'obbligo fiscale o meglio l'obbligo tributario di contribuire alle spese da parte del cittadino pagando le tasse in specifico affronteremo un argomento che è stato affrontato la scorsa settimana ossia la proposta di Enrico Letta il segretario del Partito Democratico di riformare l'imposta sulle successioni aumentando dopo aver superato la soglia di un milione di euro l'aliquota dell'imposta fino a arrivare addirittura al 20% per quanto riguarda quei patrimoni del valore di 5 milioni di euro dunque oggi abbiamo la fortuna di avvalerci di un intervento a riguardo del professor Carlo Cottarelli che ci spiegherà quanto sia giusta o non sia giusta questa imposta ma soprattutto ci parlerà anche di come di cosa avviene negli altri paesi riguardo appunto la tassazione sui immobili e sul patrimonio ereditato io direi visto che la nostra rubrica cura ricostituente a parte sempre dalla costituzione mi dai dettami costituzionali di partire dall'articolo da cui si vince il principio di base da cui poi il legislatore diciamo declina tutte le riforme e le normative dunque l'articolo il principio dell'articolo 53 che afferma tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva il sistema tributario è informato a criteri di progressività quindi che cosa accade la costituzione si basa su principi di giustizia distributiva di egualianza del carico tributario e basandosi su un criterio di progressività cosa postula questo criterio posto il fatto che chi ha maggiore disponibilità debba pagare di più chi di chi ha minore disponibilità economica quindi è vinto il dettame costituzionale da cui poi si dirama tutta la nostra legislazione tributaria direi di passare la parola direttamente al professore professor carlo cottarelli ben arrivato dunque la ringrazio del suo intervento e le pongo subito questa domanda in questi giorni c'è stata questa proposta di riforma sull'imposta delle successioni da parte del segretario del partito democratico e la mia domanda è questa secondo lei questa riforma è una riforma valida e aggiungo è giusto che ci sia un'imposta sulle successioni ma soprattutto in europa e avviene e come viene viene impostata questa tassa sulle successioni ecco ci aiuti a chiarire queste questo questo problema delle imposte sulle successioni e a capire se questa riforma questa proposta di riforma sia accettabile in modo tale da uscire dal la solita bagarre diciamo strumentalizzata della politica la ringrazio io credo devo fare una promessa io penso che in italia la pressione fiscale sia un po troppo alte dovrebbe essere dovrebbe essere ridotta detto questo è vero che noi abbiamo una tassazione sulle successioni che è molto più bassa di quella degli altri paesi bisogna tener conto del fatto che portare un'imposta di successione può essere criticata da un certo punto di vista ma ha altri vantaggi può essere criticata dal punto di vista che è una tassazione su una ricchezza che è il frutto di risparmio che è il frutto di un reddito che è stato già tassato una volta quindi questo potrebbe dire non bisogna tassare la ricchezza che è già stata tassata d'altro canto è anche vero che per chi eredita questa ricchezza sono soldi che non sono stati guadagnati uno potrebbe allora dire anche che la tassa sul reddito è ingiusta perché non solo mi tocca lavorare ma devo pure pagare le tasse allora di fronte a queste due esigenze quello che fanno gli altri paesi è prendere una via di mezzo cioè tassare le imposte di successione con un'aliquota che è più bassa normalmente non sempre perché a volte si arriva al 50 60 per cento per Francia e Corea o una liquida di solito è più bassa della tassazione dell'aliquota sul reddito sul reddito da lavoro e così via in italia è il fatto che noi abbiamo una tassazione molto bassa che con un gettito inferiore al miliardo quando in Regno Unito e Germania si parla di 7 8 miliardi e in Francia di una quindicina di miliardi quindi rispetto agli altri paesi questa tassa è una tassa che poi serviva a ridurre le disparità se si vuole le disparità alla nascita tanto vero che l'aveva raccomandata anche in forma molto pesante devo dire Luigi Einaudi nel famoso saggio scritto nel dopoguerra quello su cui non sono d'accordo è l'uso nella proposta di Letta è l'uso di queste risorse per dare una cosiddetta eredità universale di 10 mila euro a tutti ai diciottenni forse non tutti forse soltanto metà dei diciottenni ci sarebbe un testo del reddito ma io credo che questo sia contrario allo spirito che credo invece dobbiamo alimentare cioè perché bisogna premiare il merito se ti arrivano soldi dallo Stato senza nessuna se non per il fatto che hai compiuto 18 anni non mi sembra una buona idea allora queste risorse casomai le userei per ridurre la tassazione sui giovani che entrano nel mondo del lavoro così si incoraggerebbe il lavoro e non si regalano 10 mila euro professore grazie della tua risposta ricollegandomi a Luigi Einaudi appunto lui affermava che fosse giusto tassare l'eredità però quando affermava ciò eravamo in un quadro fiscale completamente diverso dove non c'era questa pressione fiscale e questa elevata imposta sul reddito come avviene oggi quindi non sarebbe giusto fare una riforma globale strutturale del quadro fiscale e quindi della pressione fiscale anche perché poi giustamente tutto questo dovrebbe servire non alla solita filosofia mi concede il termine di elemosina e alla reddito di cittadinanza per capirci ma sarebbe il caso di utilizzare i soldi ricavati dal gettito fiscale per ridurre il costo del lavoro il famoso cuneo fiscale per permettere alle imprese anche quelle dei giovani non solo di poter investire quindi di conseguenza creare un indotto lavorativo e di conseguenza accrescere il PIL io credo che come ho detto all'inizio come ho detto prima non si deve aumentare la pressione fiscale che è già abbastanza alta in Italia quindi io vedo una tassa di successione come qualcosa che rimpiazza altre tasse come ho detto la tassazione sul lavoro chi entra nel mondo del lavoro così comunque va a favore dei giovani grazie professore ricollegandomi alla mia seconda domanda in conclusione come vedrebbe lei una riforma globale del quadro fiscale una riforma che magari tenga conto anche delle imposte sulla successione paragonando appunto la nostra la nostra situazione a quella degli altri paesi europei secondo lei e sarebbe possibile fare una riforma fiscale e sarebbe anche giusto farla o no come ho detto la proposta che ho è specifica all'imposto di successione e all'utilizzo delle entrate per ridurre la tassazione sul lavoro dei giovani poi se si vuole parlare di una riforma complessiva io sinceramente non penso che sia necessaria l'unica cioè è necessaria una grossa riforma ma l'obiettivo principale di quella grossa riforma deve essere la semplificazione della tassazione non credo che ci sia un problema fondamentale di spostarsi da tassazione diretta a tassazione indiretta lo so che le organizzazioni internazionali negli ultimi anni favoriscono questo spostamento però sinceramente sono sempre rimasto molto anche quando ero capo del dipartimento del Fondo Monetario Internazionale che si occupa di finanza pubblica è sempre stato molto scettico che su queste operazioni si possa davvero cambiare la dinamica, la capacità di crescita di un'economia credo che ci dovrebbe essere più spazio però questo politicamente non credo sia possibile per una tassazione della casa perché appunto siamo molto meno tassate, la nostra casa è molto meno tassata che negli altri paesi però anche questo insomma non sono cose fondamentali la cosa fondamentale è la semplificazione poi cercare di ridurre la pressione fiscale complessiva che si può fare o perlomeno ridurre le aliquote complessive che si può fare riducendo l'evasione fiscale poi se si vuole ridurre la pressione fiscale è anche risparmiando un po' sul lato della spesa evitando gli sprechi professore grazie della sua risposta la saluto e al prossimo suo intervento che è sempre molto eloquente e chiarificatore ci tenevo affinché intervenisse il professor Cottarelli proprio perché la nostra rubrica nasce per porre delle domande ma anche per chiarire e per un confronto sempre costruttivo e serio basato sui fatti e partendo dalla Costituzione ebbene noi partendo dall'articolo 53 abbiamo capito che il nostro sistema tributario si basa sulla progressività e sulla giustizia distributiva e quindi vorremmo che da questo la discussione politica partisse e non fosse impostata e non si riducesse come al solito nella solita caotica bagarre dove non si capisce né la giustezza di una proposta di riforma come quella che è avvenuta da Partiletta ma soprattutto non si entra mai nel merito perché la propaganda politica prevale sulla stessa Costituzione e sull'interesse del cittadino ecco noi vorremmo con questa rubrica contribuire a chiarire e a capire e quindi per questo vi rivolgo come al solito la domanda secondo voi, ho ascoltato quello che abbiamo appena detto è giusto o non è giusto riformare il gettito fiscale e in questa riforma è giusto o non è giusto aumentare l'imposta sulle successioni riducendo l'imposta sul reddito? vi lascio questa domanda sperando sempre di trovare valide soluzioni grazie a tutti